Serata teatrale oggi alle 20.30 presso il castello dei Principi di Bischere ad Acate all'insegna della solidarietà. L'iniziativa benefica a cura del Rotary Club di Vittoria presieduto dal dottor Mario Rasi in collaborazione con l'amministrazione comunale di Acate è finalizzata alla raccolta di fondi da destinare alla Polio Plus della Rotary Foundation. Testimonial della serata la compagnia teatrale Obiclub di Acate che presenterà la commedia in due atti i papà nascono negli armadi senza alcun cachet. Il Rotary International, come ha tenuto a sottolineare il dottor Rasi, ha avviato già da lontano 1985 il Polio Plus un programma inteso ad immunizzare tutti i bambini del mondo contro la poliomielite. Il programma Polio Plus è una delle più ambiziosi imprese umanitarie che sia mai stata attuata dal settore privato e servirà da banco di prova per nuove iniziative private e pubbliche destinate a sconviggere altre malattie nel prossimo secolo.